Siamo a Reggio Emilia, siamo qui in occasione di un compleanno, 51esimo anno della rassegna sui Nicola Internazionale e siamo col Presidente Enrico Obini. Presidente, questa è una fiera molto importante perché il mondo dell'allevamento dei suini ha qualche problema. Stiamo aspettando anche il nuovo Ministro dell'Agricoltura, quindi se viene qua è perché evidentemente c'è qualcosa di importante. Presidente, ci vuol dire qualcosa di questa fiera? Sì, questa è una rassegna molto importante, il 51esimo anno, quindi nelle tradizioni è la fiera di riferimento di tutto l'allevamento e tutta la filiera sui Nicola. È chiaro che avviene questa fiera in un momento molto difficile perché ci sono le aziende in crisi, le votori in crisi e questa crisi degli allevatori rischia di mettere in crisi anche tutta la filiera, quindi la trasformazione, i produttori di attrezzature, perché questa è la nostra zona, Modena, Parma, Reggio, Mantua sono le zone dove c'è anche tutta la filiera completa dell'agroalimentare, quindi siamo molto preoccupati e questa mattina al Ministro vorremmo sporre questo chiedendo anche una presa di produzione forte da parte del Governo perché serve un intervento d'urgenza per salvare non solo i produttori ma anche tutta la filiera completa. Anche perché è molto strano, l'export che sta aumentando, i prosciutti se ne vendono sempre di più e com'è che invece di maiale è sempre più difficile allevarli? Esatto, è difficile perché non vengano pagati, quindi in controtendenza anche con quello che succede nell'Europa perché in altri paesi europei, i produttori, Danimarca, Olanda, il prezzo aumenta, sta aumentando anche la forte richiesta del prodotto finito, quindi della solumaria di qualità e quindi non si capisce questo, è chiaro che per salvare la solumaria di qualità, la trasformazione finale bisogna comunque dare un reddito agli allevatori perché altrimenti non reggono, per cui su questo ci dobbiamo impegnare e ci vogliamo impegnare. Cosa è cambiato in questi ultimi 10-15 anni per l'allevatore di Suivi? È cambiato che non prende niente, quindi c'è le norme, anche le norme che sono imposte giustamente forse anche eccessive, anche per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda l'inquinamento che producono i maiali, quindi queste norme hanno pesantito, hanno aggravato un po' la situazione, quindi non siamo contro le norme, però insomma bisognerebbe capire in che modo dare prospettive, in che modo dare continuità a questi allevatori che fanno fatica proprio a stare sul mercato. Il rischio di chiusura di quanti allevamenti? Più del 50%, quindi siamo a un rischio davvero molto elevato, per cui serve uno stato di crisi del settore, che questa mattina chiederemo al Ministro perché altrimenti rischiano più del 50% degli allevamenti, perché non è facile rimanere aperti, rimanere sul mercato e chiaramente se finiscono gli allevatori non finisce tutto il resto. Qui abbiamo anche il Presidente europeo De Castro, vogliamo anche lui fare un appello pubblico? Sicuramente, anche con De Castro, dovremo incontrarlo anche questa mattina, è presente a un convegno, lui si sta impegnando molto perché conosce questo settore da sempre, quindi anche con De Castro abbiamo aperto, stiamo prendendo un confronto di questo tipo. Bene, facciamo tanti auguri e speriamo di continuare a mangiare salumi italiani di maiali italiani. Grazie, vi aspettiamo la 52esima edizione, sperando che sia un'edizione già con un futuro davanti più eroso e più importante.